Farmaci scaduti, sequestrati e tre persone deferite all'autorità giudiziaria e il bilancio dei controlli portati a termine dai carabinieri del NAS di Pescara che hanno verificato le condizioni di 15 tra unità operative e ambulatori dei presidi ospedalieri abruzzesi e la proprietà delle cure somministrate alle persone fragili che vi devono fare ricorso. In particolare in provincia di Chieti i militari hanno sottoposto a sequestro cinque confezioni di farmaci con data di scadenza oltrepassata, rinvenuti in un carrello per le emergenze. Il coordinatore infermieristico di quella unità operativa è stato segnalato alla procura della Repubblica di Chieti. Altre due infermiere sono state denunciate in stato di libertà in quanto stavano esercitando la professione sanitaria benché non iscritte all'ordine delle professioni infermieristiche. Documentate importanti criticità igienico-sanitarie e tecnologiche sia negli ambienti di degenza che in quelli ad uso esclusivo del personale sanitario. Le ispezioni svolte in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno sviluppato accertamenti sulla regolarità di contratti di alcuni operatori sociosanitari. In provincia dell'Aquila gli ispettori del NAS hanno documentato gravi criticità igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche in un day hospital oncologico. Nelle stanze di infusione è stata rilevata una temperatura superiore a 30 gradi centigradi con serrande abbassate e luci spente. Nonostante la presenza di pazienti chiaramente fragili in condizioni microclimatiche che non assicuravano il cosiddetto benessere termico. In provincia di Pescara e Teramo i carabinieri del NAS hanno ispezionato diverse unità operative di quattro ospedali. Nei reparti di medicina, geriatria, dei hospital oncologico si sono documentate criticità strutturali e tecnologiche, tutte oggetto di segnalazione per l'immediato ripristino e adeguamento strutturale e impiantistico.